Mi colpisco. Ok, sono in palla. Allora, signor Schubert, ha mai torturato qualche detenuto? Sì, lo fa. E si ricorda di quella faccenda dei berretti? Sì, mi ricordo. Mi era stato assegnato il gruppo dei polacchi più bighi. Andai con loro a recinto, li strappai i berretti di dosso e li lanciai al di là. Lei nel 1940... Aspetta la battuta, figlio! Ordinai ai detenuti di andare a riprendere subito i loro rispettivi berretti e appena misero piede dall'altra parte gli sparai addosso. Lei nel 1940 ha dato l'ordine a un detenuto di suicidarsi? Sì, l'ho dato. Nel marzo del 1940 ordinai a un detenuto polacco di impiccarsi consegnandoli una fune, un martello. e un chiodo. L'ho rinchiuse e gli dissi che se non si fosse impiccato gli avrei strappato i testicoli. E si è impiccato. Entro mezz'ora. E quante persone ha colpito a morte? Tra il 1939 e il 1944 fucilai 30 tedeschi, 33 polacchi e all'incirca 13.000 russi. La cifra è rotondata per eccesso. Quali decorazioni ha? Hai saltato tutto, testa di cazzo che non sei altro! Tutta la faccenda col capo platone Flicker! Quali decorazioni quelle belle bestialità ha ottenuto? Ha ottenuto! Mi hanno conferito la croce all'onor militare di seconda classe con spada. E quale attività svolge oggi signor Schubert? Faccio il pasticcello. Bel lavoro! Dacci il nostro tiramisù quotidiano! Così non va eh tu non lo fai come lo fa il mio papà. Ma anche il tuo babbo non lo fa più come una volta. Lui ormai hanno smidollato da quando gli hanno infilato in gola quel tubetto di plastica. Questo mi dispiace molto. Come al solito si sveglia con le gazzini ma senza il suo vecchio lavorante sarebbe perduto. E quel polacco gigantesco fuggito di pronti e rossi che il polacco più scemo fuori dalla parola? Un Boleslav ritardato. Il babbo gli ha dovuto insegnare tutto ciò che poteva perfino il rito. Ehi Boleslav! come si riesce a mettere venti ebrei in una Volkswagen due davanti tre dietro il resto di cosa genere non sai mi deve Boleslav? Bene molto bene hai pulito il forno? Doh! Hai preparato la torta alla crema di rum? Doh! Me la fai bene? un buon lavoro Boleslav devo assaggiarla subito mica male per il polacco cerca di essere sempre in palla oggi avrebbe compiuto settant'anni di povero dottor Riosa questa ingiustizia mi fa venire il vomito lui ora potrebbe festeggiare il grembo della sua famiglia come si deve e invece no è lì dove i luni di ebrei l'hanno rinchiuso a suo tempo in una foresta in mezzo a quegli schiposi inchios povero dottor Riosa si può cifra che ogni tanto varti la frontiera in gran segreto munita di barfa e passa a bordo farsi così da non farsi catturare può darsi che arrivi perfino oggi e nel caso voglio che abbia la sua torta al rum e là l'avrà non l'ho mai dimenticato ci si salutava con un Hi Hitler Hi Hitler al posto dell'odierno ciao o salve l'angelo della morte Banna il povero dottor Iosef era uno scienziato e tutto quello che faceva era per la scienza e dove saremmo oggi senza la scienza da nessuna parte niente televisione a colori niente panna che ti esce da un barattolo spray e tu avresti ancora le palle gonfiate dal tuo ultimo scolo e così ho ragione ho ragione lei presumo che questa sua visione l'abbia molto sperimentata il povero dottore Iosef ha per esempio cavato gli occhi a dei bambini ebrei l'ho letto sul giornale tu leggi il giornale sbagliato non farlo mai più no non lo farò mai più e poi non c'è progresso senza traccia di sangue mi è senza traccia di sangue vai ora vai Hitler bravo figlio mio bravo di solito i criminali tornerò sul luogo del delitto altrettanto le vittime c'è nell'aria un profumo di pioggia lo sai cosa succede con una canzone appena cantata cosa? sopravvive e resta io non sento nulla sono una balena bianca in un mare di musica tu sei così bravo e buono che potrei vomitare sono incastrato e luto incastrato in una piccola divisa da marinaretto e con l'orecchio attaccato alla porta in casa mia c'erano sempre litigi mia madre si precipitava piangendo nella sua stanza mio padre prendeva a calci il suo pianoforte a coda finché i vetri dalle finestre non tintinavano ed io vestito da marinaretto aspettavo che loro avessero fatto la pace e nessuno né Dio né la morte né tu e neanche quel piccolo nazista vi toglierà vestito da marinaretto e con l'orecchio attaccato alla porta l'attesa della loro riconciliazione andrà situato a